Musica Vivibilità, sicurezza, tutela dell'ambiente, cultura scientifica, salute e benessere illustrati gli obiettivi della nuova lista civica Fano continua a crescere Fanesi Sindaco. 19 nomini alla lista noi civi che fanno, Lucarelli assicura, vogliamo essere innovativi nelle politiche del centro-sinistra, sempre vicini alle persone. Ambiente sociale, i temi con cui la lista civica ha bene comune, si è presentata a sostegno del candidato sindaco Stefano Marchegiani, nella sala consigliare annunciati il programma e i 24 candidati. Bandare in azione nel campo da basket di Viattogliatti a Pesaro distrutta la targa dell'intitolazione dedicata all'albitro Macchioni. Oltre 30 bici d'epoca e numerose fotografie e la mostra visitabile fino al 26 maggio nella chiesa di Sant'Arcangelo a Fano realizzate in occasione del Giro d'Italia. Fermono i preparativi per la tappa a Fano della Carovana Rosa, tra poco in studio il responsabile organizzativo Alighiero Miccioli. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. La politica in primo piano partiamo da una lista composta per la maggior parte da professionisti che hanno condiviso la politica portata avanti fino ad oggi dal centro-sinistra che intendono migliorarla. È nata così la nuova lista civica denominata Fano continua a crescere che sossiene l'elezione a sindaco di Cristian Fanesi. Sono tutti nomi nuovi alla politica, tutti tranne uno. Quello dell'ex assessore Fabio Ratonelli. Sentiamo le prossime interviste che sono state realizzate da Massimo Fughetti. Fano continua a crescere una nuova lista civica che presenta l'elezione a candidato sindaco di Cristian Fanesi, quindi si pone nell'ottica del centro-sinistra. E vorremmo sapere quali sono gli obiettivi e soprattutto qual è la spinta che ha indotto questi candidati a presentarsi? La spinta è senz'altro quella di spenderci come persone, persone che compongono la lista che sono dotate di elevati profili professionali che hanno deciso di spendersi per la città. Persone che non hanno mai fatto politica in molti casi fino a questo momento, che hanno deciso di portare un loro contributo e che si identificano ovviamente nel programma di centro-sinistra e nell'area politica della coalizione di centro-sinistra. Quali sono gli obiettivi particolari appunto di questo nuovo gruppo politico? Condividiamo un'idea di città vivibile, aperta, dinamica. Uno dei temi è quello della mobilità dolce ad esempio. Riteniamo che l'amministrazione uscente abbia fatto bene e intendiamo proseguire il percorso avviato. Altro tema è quello dell'ambiente, abbiamo a cuore la sostenibilità ambientale e quindi vogliamo una città verde, più green, quindi la sostenibilità sotto tutti i fronti, sotto tutti i punti di vista. E poi un altro tema importante è quello della cultura. Pensiamo che la città di Fano gode già di eventi culturali di assoluto rilievo, che intendiamo sostenere e continuare a sostenere. Pensiamo anche che la cultura scientifica sia un aspetto di cui spesso si parla poco e che debba essere sostenuto anche in una città come Fano. e che l'amministrazione abbia anche questo ruolo, quello di contribuire a creare delle basi solide nei cittadini e nelle cittadine affinché possano affrontare in maniera più critica, più consapevole le scelte e in modo che queste siano anche più virtuose. Un gruppo spontaneo di cittadini rafforza dunque la candidatura di Cristian Fanesi che per quanto riguarda i temi che vengono discussi in questo periodo acquista particolare rilievo quello della sanità. Noi siamo per la sanità pubblica, universale, dove non si debbono curare soltanto le persone che hanno i soldi e dove le liste d'attesa sono contenute. Per questo il ruolo del comune è molto importante. Il sindaco come massimo esponente di una rappresentante di una città deve chiarire bene il fatto che una città come Fano non può avere servizi sottodimensionati, siamo contrari alle sanità privata che non è più integrativa ma nel disegno della destra che governa questa regione è sostitutiva. Faccio l'invito anche al candidato sindaco che è anche consigliere regionale della destra a parlare di qual è il piano sanitario del Santa Croce, cosa ci verrà nella nuova struttura, nella piccola palazzina che stanno costruendo, quali servizi arriveranno, qual è la prospettiva, come faranno ad arrivare professionalità a Fano perché noi non vogliamo nuove palazzine vuote, noi vogliamo servizi concentrati sui bisogni delle persone e soprattutto vorremmo parlare anche di sanità del territorio perché a Fano sono previste zero case della comunità, perché a Fano non sono previsti nuovi posti di RSA. La candidatura del primario di senologia del Santa Croce Magalotti è un valore aggiunto nel centro-sinistra? Certamente un valore aggiunto perché ci consente di parlare con competenza del tema sanitario e ci consente soprattutto di dare rappresentanza agli operatori sanitari, insieme al primario Magalotti ci sono anche altri operatori sanitari che sono candidati nelle varie liste che sostengono la mia candidatura perché il tema della sanità è centrale e soprattutto il rischio che corriamo è di avere meno servizi magari di ospedali dell'entroterra che sono difesi da assessori regionali e quindi si rischia di perdere il concetto della terza città delle Marche. Fano ha bisogno di un Santa Croce come struttura ospedaliera ma soprattutto ha bisogno di professionalità, persone che riescono ad operare e a servire gli utenti in questa città. E a proposito di questa tematica, la Regione Marche finanzia 156 borse di studio per la formazione di medici di medicina generale nel triennio 2024-2027. Lo prevede il bando di concorso per esami per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica e medicina generale approvato dalla Giunta regionale. L'obiettivo, si legge in una nota, è quello di colmare la carenza di questi specialisti legata all'inadeguata programmazione passata che non ha garantito il ricambio generazionale dei pensionamenti attesi. Sono stati svelati i nomi delle 19 persone che compongono la lista Noi CV che fanno a supporto del candidato sindaco Cristian Fanisi. Servizio di Esther Musco. Una lista fatta di persone che si mettono in gioco per amministrare la città di Fano in maniera innovativa le politiche di centro-sinistra. Così sono state presentate le 19 persone tra cui 8 donne che compongono la lista civica Noi Civiche annunciata sabato mattina in Piazza Costanzi, sede del partito Uno di Noi che appoggia Cristian Fanisi il candidato sindaco alle elezioni amministrative a Fano l'8 e 9 giugno. Persone provenienti dal settore della sanità, della marineria, del sociale e della vita di quartiere. ognuno con la sua esperienza da mettere in atto in un programma politico, innovativo e concreto in diversi aspetti della comunità. Dalle politiche giovanili all'infermiere e psicologo del quartiere dalla marineria ai servizi della persona a chi è in difficoltà e alla valorizzazione dei centri di quartiere. Il programma presentato di Noi Civiche è riassunto in 9 punti bellezza, Europa, creatività, sostenibilità, sicurezza, sviluppo, giovani, futuro e quartieri. Un bel gruppo di persone, motivato, innovativo, 19 persone, 8 donne. Vogliamo essere una lista giovane, fresca, innovativa nelle politiche del centrosinistra perché secondo noi abbiamo bisogno di fare questo, innovare anche le politiche di centrosinistra consapevoli ovviamente che dobbiamo battere le destre, consapevoli che sappiamo governare, abbiamo più armi per fare questo, ma consapevoli che dobbiamo essere più vicini alle persone. Come Civiche in questi dieci anni abbiamo fatto questo e oggi il progetto Noi Civiche si innova, evolve e presenta un gruppo di 19 persone che sarà garante delle politiche di centrosinistra. Abbiamo presentato un programma ricco di 68 punti all'attuale candidato sindaco Fanesi, vogliamo che il candidato sindaco lo porti all'attenzione della città, tocca veramente tutti i punti della città perché siamo consapevoli che servono proposte e vogliamo combattere la destra che veramente in questi mesi abbiamo solo sentito fare politiche di minoranza, puntare il dito senza veramente fare proposte serie per la città. Ecco, ci poniamo di essere innovativi e concreti per la città. Siamo orgogliosissimi di questa lista che oggi presentiamo alla città, una lista assolutamente civica che mette al centro una persona, la persona, una lista che si è scelta. Ci tengo a dire questa cosa perché davvero non siamo andati per strada a prendere l'ultimo sconosciuto. Noi qui ci vogliamo veramente bene e quando si mette a valore ogni singola esperienza che viene da mondi diversi significa che si può essere utili alla città. Si può fare da portavoce rispetto dei vissuti diversi, rispetto a quello che la città oggi a volte non riesce ad avvicinare al mondo della politica e quindi dell'amministrazione. Noi ne siamo testimoni in qualche modo perché appunto l'assessore Lucarelli veniamo proprio da un'esperienza da vicino con la città pubblica e quindi è per questo che ci siamo impegnati a renderla ancora più armoniosa e partecipata proprio perché l'intento è quello di arrivare a darvi le risposte giuste. Abbiamo un obiettivo comune che è quello della gente comune, che è quello appunto di non elevarsi anche ad ambizioni straordinarie ma proprio nella vita del quotidiano di tutti i giorni perché ognuno di noi esce di casa, vuole sentirsi libero e noi lo siamo anche rispetto a altre aree politiche perché essendo civiche possiamo dire quello che vogliamo e possiamo anche poi riuscire a farti portavoce anche degli ultimi a includere nella città quelle persone che oggi non hanno voce. Anche bene comune la lista civica a sostegno del candidato a sindaco Stefano Marcheggiani ha presentato il programma elettorale e i candidati. Ambiente e sociale i temi principali. Sentiamo. La lista civica bene comune della coalizione Progressisti per Fanno 2050 lo scorso fine settimana ha presentato alla stampa il nutrito programma elettorale e i 24 candidati che compongono la lista a sostegno di Stefano Marcheggiani sindaco. Un gruppo che da oltre 20 anni è sempre stato presente sui temi dell'ambiente e del sociale. Così ai nostri microfoni Luciano Benini. È stato un percorso molto lungo, avremmo voluto stare tutti insieme purtroppo ci sono state queste primarie degli assessori che hanno impedito un percorso comune. Noi come sempre abbiamo valutato la nostra posizione politica sulla base dei programmi abbiamo trovato nel programma dei Progressisti che via via si è andato arricchendo di altre liste un programma a noi particolarmente vicino e proprio per questo abbiamo deciso di stare in questo gruppo, in questa coalizione dei Progressisti. La presentazione di oggi è importante perché noi ci teniamo molto al programma sarà possibile visionarlo ovviamente su tutti i canali social nostri, sul nostro sito. Anche la qualità dei candidati credo vada sottolineata ci saranno i curriculum dei candidati sul nostro sito e quindi sarà possibile appunto vederne la qualità. Perché siamo quei progressisti? Beh perché abbiamo ritenuto che l'attuale giunta che sta finendo, la giunta seri, questi dieci anni e i precedenti della giunta a Guzzi-Serfilippi siano stati anni non positivi per Fano. Quindi noi non volevamo né sostenere ovviamente il centrodestra col quale non siamo mai stati ma neppure questo veramente scadente centrosinistra. Credo che la nostra proposta sia molto interessante perché c'è la possibilità finalmente per cambiare qualcosa di significativo a Fano. Molte persone sono deluse, non vanno a votare, dicono tanto non cambia niente. Beh noi invece crediamo che un voto è bene comune, un voto alla lista dei progressisti, un voto al candidato sindaco Stefano Marcheggiani possa veramente questa volta far cambiare le cose. E oggi presentate anche il vostro programma. Noi abbiamo sempre articolato il nostro programma su due grandi filoni, il sociale e l'ambientale. E proprio questi sono le note dolenti secondo noi delle ultime giunte. Sul sociale certamente questa azienda alla persona ci fa tornare indietro di 30 anni. Quindi noi una volta che guideremo la città certamente la toglieremo definitivamente per creare invece quella che noi chiamiamo la comunità educante che è la base, poi i principi della Fano città dei bambini. Beh sull'ambiente ovviamente siamo particolarmente sensibili da sempre. Il PRG che è stato appena approvato non ci piace per niente. 3 milioni di metri cubi di consumo del suolo, strade completamente inutili, quasi nulla sulla questione energetica. Questi invece sono i temi che dovremo affrontare immediatamente perché sono i temi centrali di qualunque amministrazione. E il servizio era di Filippo Pucci. Il tema della sicurezza pubblica è molto sentito dai cittadini che purtroppo oggi non hanno la possibilità di vivere Fano come dovrebbe essere vissuta. Stefano Polegioni, candidato di Forza Italia, udicino e moderati alle prossime elezioni comunali, ricorda che il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato provvedimenti anche urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Per Polegioni la presenza in città di soggetti, anche senza fissa dimora, che dopo aver occupato zone della città fino a contendersi la territorialità con atti violenti tra bande, è preoccupante. Inoltre inizia la stagione turistica e con la partenza della Movida è fondamentale avere più pattuglie per controllare il territorio. Dieci agenti di polizia di Stato arrivano alla questura di Pesaro. Lo Stato sta facendo la sua parte, ha proseguito Polegioni. Ora è compito del questore far sì che alcuni di questi agenti siano dislocati anche a Fano. Nel frattempo, su mia richiesta, è stata depositata una interrogazione parlamentare e un atto documentale formato dal senatore De Poli, attraverso il quale si chiede al ministro degli interni piantedosi più considerazione nei confronti del commissariato fanese, avviando l'iter per l'innalzamento del suo livello. Così, ha concluso Polegioni, da poter avere anche un aumento della pianta organica che ad oggi è ferma ancora agli anni 80-90. Ancora politica, a Pesaro si è presentata la cittadinanza, la lista civica vieni oltre. A parlarci del programma elettorale è la candidata a sindaco. Il nostro programma prevede tante belle iniziative, soprattutto per i cittadini, perché Pesaro deve diventare la città dei cittadini, una vicinanza dell'amministrazione ai cittadini, trasparenza amministrativa, finora non c'è stata trasparenza amministrativa, riapertura di tutti gli uffici al pubblico, peraltro diminuzione di quelli che sono gli introiti del sindaco. Preciso che il sindaco nel gennaio 2021 percepiva all'incirca 3.200 euro, gennaio 2023 9.700 euro. Io mi impegno, se vinco le elezioni e divento sindaco, a creare un fondo trasparente dove mettere una parte degli introiti per destinarli ad aiuto delle famiglie. Abbassamento della Tari, perché la Tari si può abbassare. Creazione di comunità energetiche, come ha fatto la vicina Rimini, per abbassare i costi delle bollette. Basta bonificare l'amianto, creare, mettere dei pannelli voltaici di ultima generazione, creare una comunità energetica, creare dell'idorgeno verde, rifare la mobilità urbana, perché Pesaro deve essere una città sostenibile. Noi abbiamo fatto nostro, nel programma, un manifesto creato da tutte le associazioni ambientaliste un paio di anni fa. Noi l'abbiamo recepito in pieno, perché la terra l'abbiamo presa in prestito dai nostri figli e deve ritornare ai nostri figli in perfette condizioni. Peraltro vogliamo mettere le mani sulla sanità. Io sono stata la prima, nell'ottobre-novembre, a far presente tutto quello che si poteva fare per abbattere le liste di attesa. Ci sono gli strumenti, li hanno tenuti nascosti. Nessuno ha mai informato i cittadini. Io mi impegno, chiunque vuole mi contatti, il mio numero è pubblico, aiuteremo chiunque, perché la città deve essere dei cittadini. Restiamo a Pesaro. Vandali in azione nella notte tra sabato e domenica. Ha preso di mira il campo da basket di Viattogliatti dedicato all'arbitro Gianluca Mattioli, scomparso prematuramente nel 2017. I vandali, come potete vedere dai video, hanno abbattuto il palo e danneggiato la targa dell'intitolazione. Si tratta di un atto vandalico che ha suscitato uno sdegno corale e l'amministrazione comunale si è attivata per rintracciare i responsabili. Ci spostiamo a Torrette di Fanno, verso l'hotel Playa, da dove un nostro reporter di strada ci ha inviato una segnalazione. La prima l'aveva già fatta un anno fa, ma è ancora tutto così, ci ha scritto. E siamo alle porte della stagione estiva. Dalle foto si notano ferri arrugginiti, tubi scoperti, intonaco staccato dalle pareti. Come vedete, ha concluso il telespettatore, è una cosa ridicola e pericolosa. Cambiamo argomento. Giovedì 16 maggio il Giro d'Italia farà tappa a Fanno e nell'ambito delle iniziative collaterali, sabato è stata inaugurata una mostra nella chiesa di Sant'Arcangelo che accoglie 30 bici d'epoca accompagnate da fotostoriche. Il servizio è stato curato da Cristiana Guerra. Fanno si tinge di rosa con un ricco calendario di eventi in attesa della dodicesima tappa del Giro d'Italia, in programma il 16 di maggio. Per l'occasione che coinvolge l'intera città, sabato pomeriggio nella chiesa di Sant'Arcangelo di Fanno si è svolta l'inaugurazione di una mostra dedicata alla protagonista del Giro, la bicicletta. Prestigiose bici d'epoca che vanno dalla fine dell'Ottocento agli anni Settanta, revisionate da Fernando Vichi. Oggi qui sono 33 e sono una parte della mia collezione perché ne ho diverse, un numero abbastanza considerevole. Come è nata questa passione per la collezione della bicicletta? Allora, è nata un po' così in sordina perché avevo mio padre che era appassionato non tanto quanto me ma avevamo in casa alcune biciclette d'epoca. E' morto lui, me le ha lasciate e da lì ho cominciato a ricercarne altre così e man mano la passione è andata avanti e sono circa 30 anni che colleziono e restauro biciclette d'epoca. Quella è la più vecchia? La più vecchia di queste esposte è praticamente la prima là che è di fino a Ottocento. Che caratteristiche ha? Le caratteristiche delle biciclette di fino a Ottocento sono quelle di avere una trasmissione un po' particolare e inoltre le forme soprattutto cambiano un po' perché sono riconoscibili da subito telai grossi, robusti, tubi molto più grossi di quelli moderni. Quanto è stato difficile trovare i pezzi di ricambio? E' sempre molto difficile tant'è vero che a un occhio attento potrebbe non sfuggire il fatto che qualche pezzo potrebbe essere non coevo ma è lì magari provvisorio, stiamo cercando di trovare il pezzo giusto. Un evento nato grazie alla collaborazione tra l'associazione FIAB Fano for Bici la società ciclistica dilettantistica Alma Juventus Fano il comitato regionale Marche Federazione Ciclistica Italiana e l'amministrazione comunale. Lo scopo della nostra associazione è quello di promuovere l'utilizzo della bicicletta sia quotidianamente, quindi nel nostro spostamento a casa lavoro e cittadino sia anche per il cicloturismo. Inoltre, insieme all'Alma Juventus Fano, la società ciclistica dilettantistica promuoviamo l'utilizzo della bicicletta anche nei più piccoli sia come sport ma anche come utilizzo quotidiano quindi insegnare ai bambini ad andare in bicicletta su strada e in sicurezza. Per questo abbiamo voluto organizzare questa mostra proprio perché ci dà l'idea delle biciclette che è un progetto valido anche se ha oltre 100 anni visto che, a parte qualche dettaglio, le biciclette esposte in questa mostra sono simili a quelle che usiamo tutti i giorni e nonostante nel passato venivano usate sulle strade che non erano come quelle di oggi diciamo erano molto peggiori ma venivano comunque utilizzate quindi cerchiamo di promuovere l'utilizzo della bicicletta quotidianamente ed è per questo che mi ho deciso di organizzare questa mostra. Alla cerimonia ha partecipato anche il campione italiano di ciclismo degli anni 70 Enrico Paolini. Accanto a Gabriele c'è il suo fratello che ha vinto che cosa esattamente? Allora Enrico Paolini ha vinto tre campionati italiani negli anni 73, 74 e 77 poi ha tenuto tre giorni la maglia rosa al Giro d'Italia nella tappa di Potenza che ha battuto un certo Gianni Motta. Troviamo anche una bicicletta esposta che ha realizzato il signor Enrico? Sì, è una bicicletta che ha realizzato negli anni 80-90 e adesso è un cimelio ormai. Presente all'inaugurazione anche ciclisti in abiti d'epoca che hanno sfilato per le vie del centro storico attirando l'attenzione dei più curiosi. La mostra è visitabile fino al 26 maggio tutti i pomeriggi e nei weekend tutto il giorno. E se da una parte hanno preso il via le iniziative dedicate al 107esimo Giro d'Italia dall'altra continuano i preparativi per la tappa Marte in Sicuro Fano. Ne parliamo con il responsabile organizzativo di questa tappa, Lighiero Micioli. Bentornato nei nostri strati. Grazie, buonasera a voi. I ciclisti arriveranno da San Costanzo sulla strada provinciale 16. Ricordiamo che giovedì le scuole nei comuni di Fano e di Mondolfo saranno chiuse così come le vie interessate dal giro. Tutto l'elenco lo troverete anche sul nostro sito occhialanotizia.it. O Micioli, in sintesi, quale sarà il percorso e per che ora è previsto l'arrivo a Fano? Allora, il percorso lo ripetiamo e come stavi dicendo poco fa veniamo da San Costanzo e intercettiamo subito il comune di Fano all'altezza della realtà di Tombaccia, quella zona là, poi entriamo nella zona dell'aeroporto, quindi fiancheggiamo tutto l'aeroporto, passiamo per la zona dei Tre Ponti, dopodiché prendiamo via Campanella e subito all'inizio di via Campanella giriamo a sinistra per la sedicesima strada che è una strada provinciale dentro un territorio comunale e da lì andiamo, quindi lo siamo in già località Bellocchi, da lì andiamo giù fino alla prima strada che la percorreremo fino in cima e usciremo all'altezza dell'extra da Statale Flaminia per essere chiaro, alla zona dei campi da tennis, giusto per dare anche un'idea visiva del territorio. Lì prenderemo a sinistra in direzione Cucurano e da Cucurano poi saliremo quella che già quegli abitanti di Cucurano definiscono lo Zoncolano di Cucurano che si chiama via Patuccia. Questo chilometro e mezzo di salita che ci porterà poi in cima praticamente affiancheggiando la realtà di tutta la zona di Montegiove per poi scendere all'altezza della rotatoria di Centinarola, dopodiché, la faccio un po' lunga ma arriveremo all'altezza della COP, del seminario regionale, lì gireremo subito a sinistra per poi prendere la zona del Poderino, via l'Italia e il cimitero, la strada della Liscia da lì subito a destra per incontromano andremo giù sotto il porto, il ponte del Cavalcavia che ci porta al porto, da lì saliremo via le Cesare Battisti, quindi fiancheggeremo tutto il mare, la zona porto prima e il mare poi, via le Cesare Battisti risaliremo, quindi da lì prenderemo le mura, teremo tutte le mura a destra e l'arrivo sarà all'altezza di via le Gramsci diversamente dall'altra volta in maniera totalmente opposta, quindi molto vicino all'arco d'Augusto. Questo è l'orario provisto dalle medie intorno tra le 17 e le 17.30. Ah ecco, insomma si parlava anche delle 16 e le 17.30. No, no, il giro arriverà alle 17.30, alle 16.30 invece ci sarà l'arrivo della carovana, quindi è un altro evento dentro il giro, ma quindi no, il giro arriverà tra quei minuti lì ecco. Scatteranno logicamente i divieti di sosta, le strade verranno chiuse anche in diversi orari, anche queste appunto le troverete sul nostro sito, ma a che ora riapriranno queste strade? Le strade vengono chiuse con la bandierina rossa di apertura della stradale, e le strade verranno riaperte con la bandierina verde appunto di un motociclista della stradale con molta gradualità e con molta parsimonia, con molta cautela nel momento in cui ecco poi c'è una certa distanza dall'ultima miraglia, dall'ultimo mezzo del giro per far sì ecco che poi piano piano si torni in maniera molto graduale alla normalità. Leggero alcune domande dei nostri telespettatori, logicamente appunto verranno chiuse diverse ore prima rispetto al passaggio, ma in queste ore precedenti all'arrivo della carovana rossa le persone potranno attraversare la strada a piedi o in bicicletta? Ma assolutamente sì, io dico sempre il buonsenso e la discrezionalità sono quelle che vincono su tutto, ci mancherebbe. È precluso l'uso delle auto durante la chiusura ovviamente del percorso, ma la bici a piedi si può fare tranquillamente, spostarsi tranquillamente da una parte all'altra del percorso. Quanti saranno i varchi chiusi e quante le auto che eventualmente dovranno essere liberate, posti auto? I varchi chiusi sono 180 per la precisione, quelli che interessano appunto il Comune di Fano, quindi già abbiamo un'idea di quanta mole di cose ci siano da dover gestire. Le persone che sono state coinvolte tra Polizia Municipale e Protezione Civile sono circa 130-140, ai quali poi andrà la sicurezza con i carabinieri della Polizia che hanno un altro servizio, un altro ruolo. Le auto che andremo a rimuovere sin dal mercoledì antecedente alla gara, perché come ben sapete tutta la zona d'arrivo, quindi via le Gramsci, via le Palazzi, via le Buossi e anche altri parcheggi, penso all'ex casermo, al foro Boario, dalla sera antecedente alla partenza, quindi dal mercoledì sera, dovranno essere liberati. Sono circa 2.000 i posti auto che dovremmo in qualche modo liberare per dare appunto ospitalità a quelli del giro. Siete a lavoro da mesi per organizzare questa tappa, forse da un anno, che è la dodicesima del Giro d'Italia. Una curiosità, qual è stata la cosa più difficile da organizzare? Ma la cosa più difficile? Non c'è una cosa particolarmente difficile, che sono tante cose dentro l'evento Giro. Il Giro sono tante realtà che viaggiano unisono, che viaggiano in maniera quasi cronometrica l'una con l'altra, dove tutto è molto didascalico, dove tutto è molto preciso, perché essendo una dimensione molto vasta non si possono permettere delle distrazioni, e quindi far conciliare le esigenze dell'organizzazione locale, che giustamente ha le sue esigenze, con quelle che invece sono le peculiarità e le esigenze del Giro, in tutto questo è anche il mio ruolo. Però ecco, devo dire che la risposta di Fano, dell'amministrazione, di tutta la cittadinanza, e del Comune intero è stata, e spero, sono certo che sarà assolutamente ad altissimo livello. Lei con chi si deve relazionare? Ci sono altri referenti per i vari settori? Guardi, ieri mi ha fatto molto piacere, ieri la domenica ho avuto una telefonata del direttore del Giro, di Mauro Vegni, che mi ha chiamato mentre stava andando in quel di Napoli, perché appunto ieri il Giro è arrivato a Napoli, e abbiamo parlato circa un quarto d'ora, mi ha chiesto un po' di cose con noi, tra noi c'è un rapporto, diciamo, di amicizia molto consolidato, e quindi io mi rapporto, in questo caso, ieri questa telefonata, ecco, è stata una telefonata extra, solitamente mi rapporto con i vari responsabili dei vari settori, nel senso che Fano avrà delle cose, l'amministrazione, il Comune ha chiesto di fare alcuni eventi, all'interno dell'evento Giro, ecco, per ognuno di questi eventi ci sono dei vari responsabili con cui devi interloquire. Ad esempio che è quello dell'arrivo, mi spiegava. Anche quello dell'arrivo, l'intenzione dell'amministrazione è quella di dare anche visibilità a tutto quello che sono le cose più belle della città di Fano, dal carnevale alla pandolfaccia, ad altre realtà storiche della città, lì faremo una sorta di sfilata, ma tutto questo va inserito in un contesto, diciamo, quasi cronometrico, dal momento in cui si parte al momento in cui si arriva. E quindi il mio ruolo è proprio far conciliare un po' tutto, anche tutto questo, ecco. I ciclisti stanno affrontando le 21 tappe lungo l'ossivale italiano, chi è il favorito per la maglia rosa? Dire chi è il favorito è una cosa quasi scontata, lo si sapeva già, tra virgolette, prima che iniziassi il giro, adesso lo è ancora di più, che è questo corridore che è straordinariamente bello anche da vedere, perché anche nella tappa di ieri, quella di Napoli addirittura si è prestato a fare, a tirare la volata al suo compagno di squadra, cioè quando normalmente i leader della classifica stanno coperti per non rischiare. Lui è l'esatto opposto di tutto questo, per cui al di là che io gli auguro sia scontato che vinca il giro, però è piacevole e veramente da vedere. Quindi ci riporta un po' ad anni passati in cui c'erano altri campioni di questo valore, di questa dimensione. Possiamo dire che... Tadai Pogaciar ovviamente. A prescindere da chi vincerà, anche la tappa Fano sarà comunque una bellissima vetrina per il nostro territorio. Assolutamente sì, io penso che adesso non è il Giro, è l'evento Giro, perché ripeto, all'interno del Giro ci sono quattro eventi, cioè c'è il Giro Mediolanum, composto da tutti gli ex campioni del ciclismo italiano, quindi che partirà da Mondolfo, poi a seguire ci sarà il Giro E, con personaggi del mondo dello spettacolo, con un'industria industriale, che appunto fanno proprio una gara all'interno del Giro, che partirà in questo caso da Senigallia, arriveranno sempre a Fano, poi ci sarà la Carovana, e poi alla fine chiuderà tutto questo amore di eventi il Giro d'Italia. Di conseguenza, che dire, io penso che più di così, e tutto questo va in diretta dalla mattina, mi sembra alle 10, 10 e mezzo, parte la diretta integrale, in diversi canali televisivi, che non sono solo quella da Rai, ma anche di altre televisioni private, penso che godere di tutta questa visibilità sia veramente una cosa unica. Buon lavoro a lei e a tutte le persone che dovranno lavorare per questa giornata. Grazie mille, grazie dell'invito. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Dario Durazzi e Luciana Fulvi, residenti a Cartoceto, che sabato scorso hanno festeggiato 50 anni di matrimonio. Passiamo d'occhio al voto, perché la puntata prevista per questa sera slitta a giovedì 16 maggio, per via di un problema personale di uno degli ospiti, e vi ricordo che domani invece alle 18.45 torna su Fano TV The English Channel il programma dedicato ai bambini per imparare l'inglese giocando. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire un approfondimento in studio con Francesca Cecchini, candidata al Consiglio Comunale di Fano con Forza Italia. Io vi ringrazio per aver seguito Occhio alla Notizia e l'informazione torna domani mattina alle 7 con la Rassegna Stampa. Buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.